Il mio nome è Fabrizio Massa, sono fisioterapista. Kinesiologia è l'estudio del movimento del corpo. E ho studiato kinesiologia per aiutare i problemi dei problemi del corpo. Oggi il workshop è concentrato sulle malattie. Questo è un problema molto legato all'ultimo. Ci sono persone di 30-35 anni, che stanno subito, soffrono di malattie malattie, ma anche i giovani stanno soffrono di questo problema. Per creare la malattie malattie, utilizziamo il movimento. Prima di tutto, facciamo alcuni esercizi di mobilità. Quindi, la mobilità di tutti i strutturi, i jointi di tutto il corpo. È importante fare la mobilizzazione di tutti i strutturi, facciamo esercizi come questo. Lato sotto, e facciamo direttamente, e facciamo esercizi. E facciamo esercizi. E facciamo esercizi come attraverso la mano con la mano direttamente. In questa direzione. Rotazione dell'occhio. E facciamo esercizi come questo. E facciamo esercizi. Cambiamo l'occhio. e facciamo esercizi. Con la mobilità e il esercizio, un'altra cosa molto importante da fare è il posto. Il posto è un problema di salire ogni giorno. E questa è la collocazione, la posizione che facciamo al nostro corpo ogni giorno. In tutto ciò che stiamo facendo. Quindi, è molto importante avere un posto corretto nella vita di ogni giorno. Nella vita di lavorare, nella vita di studiare, ogni volta. Quindi, è importante non essere troppo avversi più di curva. Inoltre. Mettiamo i muscoli del davanti, inoltre. Ok? Un'esercizio delle nostre braccia, che ora con il smartphone è molto difficile da fare perchè siamo ogni volta in questa posizione. E quindi, molti persone soffrono problemi della legge perché c'è la retinizzazione della trattata cervicale. C'è qualcuno con problemi di back? Uno di voi è qui. Quattro? Qual è il nome? Marietta. Marietta, prendete i piedi. Prendete? Prendete? Non, non, non. Ok. Prendete qui. Prendete qui? Sì. Ok. Ci vediamo alcuni altri esercizi. Per esempio, la rinforzazione del gluteus per le persone che assumono un postulare principalmente per il back. Questo è un postulare per il back. Especialmente le donne che assumono questa posizione con il back. Ok? Quindi, flex, rinforzazione. Chiudi qui. E provate a fare un pietro con il tuo corpo. Ok? Prendete. Ok. Prendete. Prendete. Quando andate. Prendete. 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 Ok. Prendete. 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 E' uguale. Un'imperazione del gluteus. Ok. Aderemo. Ok. Prendete. Miggio. Ok. Prendete. Ok. La posizione con i piedi a 90 gradi, possiamo fare questo con una corda, con una medicina o qualcosa di simile. Questa posizione è molto importante, perché qui abbiamo il totale rilasso del traccio della colonna. E' speciale, uno dei muscoli importanti, che è il iliopsoas. Iliopsoas è un muscoli molto importante in flexing il traccio e stabilizzazione delle braccia. Questa posizione, provi a respirare, molto facilmente. Con 5-10 minuti di questo lavoro, abbiamo una buona rilasso del traccio. Ok, perfetto. Andiamo con un altro esercizio di organizzazione. Torniamo con questa posizione. Questa posizione è una posizione della città, questa è una posizione della yoga, ma molto importante per la parte. Probabilmente alcuni di voi conoscono questo. Abbiamo due fasi, l'inspiration e l'expiration. L'inspiration deve fare questo. L'expiration è questo. L'expiration è questo. Perfetto. Perfetto. Molto bene. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Con la esercizio di organizzazione, è molto importante fare qualche esercizio di organizzazione di organizzazione del traccio. Come, come con la città, è importante per rinforzare il traccio del traccio. Especialmente in formale postura. Ok? E' molto importante per il traccio del traccio del traccio del traccio. Sempre con 90 gradi, perché qui non soffermiamo nei vertebrali. Prendiamo il traccio del traccio del traccio del traccio del traccio del traccio. Questo è vero. Prendiamo l'interno. Prendiamo l'interno. Prendiamo l'interno. Prendiamo l'interno sempre in posizione. Questo è un esercizio molto facile. Questo è un esercizio. Prendiamo l'interno di ogni volta. E' molto importante, perché non c'è più pesca o pressione sul traccio del traccio. Quindi possiamo fare l'interno di ogni volta. E' anche se abbiamo il traccio in questa zona. Un altro volantino. Ok, perfetto. Cosa è il tuo nome? Emerset. 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 Ok, con Emerset proviamo un esercizio del traccio del traccio del traccio. Plank. Qualcuno lo conosce? Plank. Plank, sì. Ok. Plank. 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 È importante attivare il traccio del traccio. Plank. Per fare una sorta di retroversione. OV. Antiversione OV. Ok. E mantenere il traccio del traccio del traccio. Plank. Plank. Nel traccio del traccio. Spesso attraverso la posizione. Non è molto bene. Altre mobilizzazione. Dio di ovunque. Posso attraverso la posizione. Iniziamo attraverso il traccio al traccio. Iniziamo la posizione. Potete anche fare questo quando hai una piazza di back. E provate a respirare e a rilassare tutte le strutture. Ok, provate e provate ad andare con le mani. Perfetto. Un'altra buona tecnica di Apostolo Amor è la tecnica Messierne. Messierne è un osteologo che studia questo metodo per strutturare tutte le strutture del corpo. E' la struttura che utilizziamo per stare in posizione. Messierne è fatto da un operatore che ha fatto il metodo in Messierne. Poi mettere la parte del paciente. Poi mettere l'escalante. Poi mettere il piazza. In la parte. Si. Ok. Poi mettere. Ok. Per ripetere la parte del paciente. I'vano chiedere di rimuare la parte di giù. Percire la parte del paciente. I'vano chiedere di rimuare senza mantenere la mano in posizione. E provate ad pressare la sacca sulla mia piedra. Ok. Ok, prendiamo la mano qui, spettacolo e spettacolo qui. Qui abbiamo il spettacolo di tutte le braccia. Al principio è molto facile da fare, e il paciente resta circa circa 10 minuti, ma facendo questo ogni giorno, anche con le braccia, il tempo aumenta e vediamo l'esplosione del braccio. Ficcate come questo, spettacolo e provo a spettacolo. Quali paine? È importante fare questo con un operatore, perché ci sono molti movimenti che lei fa, per non sentire. E' molto importante che il terapistico fa vedere tutta la rotazione delle ippi e per corregare ogni movimento. Ok? Grazie mille. È strano che tutti stanno bene con le braccia. E' molto bene. E' nessuno si sta bene. Perché noi spettaciamo. Si. E' non. Si spettaciamo. Si. E' tutti qui spettaciamo? Si. E' tutti. E' tutti. E' così. E' per questo che non abbiamo le braccia. Le braccia non abbiamo le braccia. Vedo che fino all'inizio del braccio è lavorato sul posto. Si. E' molto felice per te. E' anche il braccio è lavorato. E' quello che si sta bene. E' per questo che ti possa provare con il braccio. E' questa. E' questa. E' una cosa che ti lo spettaciamo. E' questa. E' la cosa che ti possa provare. E' questa cosa. E' la cosa che ti possa provare? E' questa cosa. E' questa cosa. ...e' la posizione di spettacolo... ...primando la posizione di spettacolo... ...d'accordo... ...ma potenza di spettacolo... ...ma potenza di posizione di messier... ...ma questo è una delle posizioni possibili... La posizione, la posizione, depende del problema. Ho lavorato anche con i bambini, quando hanno problemi, ho lavorato anche con i bambini, ho lavorato con le posizioni, per spettare la pectora, in posizione come questa, e presso la posizione, o in questa posizione, per lavorare con la mobilità delle braccia. Ho qualche problema per mettere tutte le braccia qui, quindi al principio lavoriamo. In questo modo, e proviamo a spettare le braccia. Ok? O per esempio, in problemi cervicali, proviamo a mettere attenzione sul trapezio, che è un braccio, che è davvero involvato nel peccato, e proviamo a spettare con i bambini. in questo modo, dovete sentire attenzione sul trapezio. Ok? Ok. Ok. Grazie. con un pochetto di 3-4 cm, cambiamo tutte le posizioni del rib, e delle colombe. E facciamo questo ogni giorno, perché le persone si tratta di mantenere le braccia sempre alle stelle, cambiamo tutte le posizioni. in questo modo. E' molto importante fare l'esercito e rinforzare il corpo ogni giorno. Le persone pensano che devono migliorare le posizioni le posizioni fisiche ma non funzionale. E' molto importante. E' molto importante. Un'altra domanda. come io abbiamo la posizione come questa che ho scoperto dei muscoli. Potremmo lavorare molto facilmente con la corda, usando anche una bottola di acqua come peso. E' meglio se non abbiamo questa parte della corda. La città l'adduzione dei schiagli. E stiamo in questa posizione lavorando sulle sulle senza fare nessuna pressione o lavorare sulle 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 le posizioni è molto importante non lasciare la corda e prendere la corda sulle 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 con la collina quindi dobbiamo perdere e e cercare di mantenere la posizione. Un'altra buona esercizio potrebbe essere questo. Prendere. Ci sembra molto facile, ma è molto facile. Qui lavoriamo molto più sull'esercizio, un altro importante muscolo, nella riduzzione del scavulas. Questo è un buon routine. Stretziamo e proviamo a fare qualche momento. Stretziamo pectora. Inversi. Questo è tutto. C'è l'esercizio? Ok, grazie. C'è l'esercizio? C'è l'esercizio? Ok, grazie. C'è l'esercizio, Il bagpaccio non deve essere così stricato quindi non usiamo troppo pesce dietro perché potrebbe causare un'intrarotazione della scuola perché stiamo guardando il bagpaccio, soprattutto con le scuola La cosa più importante è che non teniamo troppo pesce dietro Questo è il raccomandante Cosa si può cambiare la candidata? Probabilmente una bagpaccia sulla mano Due le le spade? Due le le spade, è senza male Grazie quando sei un paese, una bagpaccia sulla mano è la migliore Ok, se siamo finiti, mi piaceva avere una foto con voi tutti È possibile? Sì Grazie a tutti